Dieci progetti ma un unico vincitore. Il disegno selezionato oggi al Liceo Artistico Mengaroni presto diventerà un monumento dedicato alla leggenda del ciclismo Marco Pantani. Il progetto che ha coinvolto dieci studenti della classe terza B della sezione di arti figurative si è concluso questa mattina con la proclamazione delle tre idee più interessanti, ma solamente la vincitrice verrà anche realizzata. Un'opera che verrà installata in un punto della ciclovia Adriatica che dovrà sorgere e che collegherà Colombarone a Gabice. Una ciclovia che il consigliere comunale Emanuele Gambini ha proposto settimane fa alla Giunta, la quale ha rilanciato decidendo di intitolarla proprio a Pantani. Lo stesso Gambini ha voluto coinvolgere il Liceo Artistico in questo importante progetto per la città di Pesaro, che da tempo è la patria della bicicletta. Ci sono stati dei progetti molto belli, è stato difficile scegliere poi quale sarà realizzato, poi sarà opera del Comune di Pesaro comunque a realizzare questo progetto e il domani che avverrà la realizzazione di questa pista ciclabile. Mi è piaciuto molto lavorare a questo progetto perché grazie anche all'assessore Franco Ellucci che ho coinvolto in questo progetto, perché i ragazzi si sono trovati a realizzare un'opera dedicata a Marco Pantani, un ciclista che non è della loro epoca, quindi una doppia difficoltà, ma sono venuti fuori dei progetti veramente interessanti. Andremo ad esporli sia a Pesaro, in qualche negozio che accetterà di esporre questi progetti e abbiamo avuto già il benestare del fan club di Cesenatico che li esporrà a breve. Gambini che mi ha cercato per realizzare un monumento dedicato al ciclista Marco Pantani e quindi è nata subito la ricerca tra i ragazzi perché il primo approccio appunto a qualsiasi argomento è proprio quello della ricerca e poi i ragazzi attraverso una serie di schizzi, di disegni sono riusciti ad entrare un po' nello spirito e pensando ecco di anche realizzare, non avevano vincoli, quindi loro si sono un po' mossi con molta autonomia e hanno cercato di realizzare anche opere tridimensionali, però poi ecco giustamente venendo anche da una sezione che lavora molto sul bidimensionale hanno trovato dei piccoli ostacoli, delle prime difficoltà. È stato divertente anche nello stesso tempo complicato perché ci sono state anche varie complicazioni nel corso dell'opera. Che genere di complicazioni? Che non so, ho cambiato varie volte idea. Hai fatto anche numerose ricerche in merito anche alla storia di Pantani per poi disegnare il progetto che poi ha vinto? Sì, anche, abbastanza ricerche. Hai stato appassionato di più della storia di Pantani? Il fatto che non ha mollato anche quando aveva varie fratture e tutto. Dove sorgerà quest'opera? Che ricordiamo in quale materiale si realizzerà e quando? Allora l'opera speriamo che venga realizzata il più presto possibile perché vorrebbe dire che la ciclovia adriatica di Colombarone verrà realizzata. Quindi tutto è legato a quella ciclovia. Io sono molto fiducioso perché abbiamo già anche le aziende che vogliono realizzare questo monumento e quindi grazie ai ragazzi che hanno fatto il disegno e grazie alle aziende che stanno già spingendo per poterlo realizzare perché comunque è un'opera di grande visibilità e di grande importanza per la città.